ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video oggi ho voglia di portarvi una tier list perché tutte le volte che ve le ho portate sono andate molto molto bene come sempre per le tier list vi lascio qui sotto in descrizione il link per poterle fare anche voi e taggarmi su instagram dove voi reposterò le storie dove verrò taggato che è una sorta di pagellone di questa prima parte di stagione è una tier list che non ho creato io sono stato taggato l'altro giorno su instagram in una storia dagli amici di rai bianconera che saluto e ringrazio penso che la tier list appunto sia stata creata generata da loro qualcuno in direct mi ha risposto dicendomi che non era d'accordo con appunto le valutazioni che aveva andate ma non le ho creato io appunto erano valutazioni che aveva andato loro e quindi niente oggi siamo qui per cercare di parlarne insieme e di vedere un attimo dove ficcare i vari giocatori per quella che è stata la prima parte di stagione sia in campionato che in champions league quindi cerchiamo di racchiudere un po tutte e due le cose ovviamente io ragazzi vi invito a scaricare gratuitamente qui sotto in descrizione l'applicazione di numero 10 che è un'app con la quale sto lavorando e collaborando per la preparazione al mondiale anche perché ci sono diversi articoli che vengono scritti proprio dal sottoscritto e quindi se non volete perdervi neanche un momento e un aggiornamento per quanto riguarda tutte le cose che porto scaricatevi numero 10 e allora ragazzi eccoci qua questa è la tier list cerchiamo di analizzare insieme anche considerando i dati che stiamo prendendo appunto da transfer market per quanto riguarda il minutaggio dei giocatori quindi direi di partire dal fondo andare a vedere un po quelli che hanno giocato meno e quindi kai orge a che pogba che non hanno ancora mai giocato nemmeno un minuto così come pinsoglio così come federico chiesa che ha giocato 59 minuti lo stesso healing junior che è stato infortunato lo stesso sulle lo stesso rugani che hanno giocato veramente troppi pochi minuti per avere un giudizio questi verranno utilizzati come senza voto per avere un giudizio equo abbastanza oggettivo e quindi rugani e il primo se ne va in senza voto per quanto riguarda kostic beh vi devo dire la verità io kostic lo metto assolutamente in promosso non lo metto in top perché ci sono state alcune partite dove non mi aveva non mi aveva convinto in particolar modo non mi era piaciuto in maniera particolare a inizio anno mi sembrava un po impreciso credo che abbia aggiustato un pochino la mira ma kostic ha già fatto il suo andiamo a vedere un attimo anche per quanto riguarda gol ne ha fatto uno ha fatto diversi assist è il secondo giocatore più utilizzato per nella rosa per minuti il primo è danilo quindi credo proprio che kostic sia nei promossi per quanto riguarda fagioli poteva benissimo essere un senza voto fino appunto la partita di lecce e invece adesso va nei promossi assolutamente potrebbe essere nei top addirittura per quanto è stato impiegato per quello che ha dimostrato ma nei top vorrei cercare di mettere dei giocatori che fino adesso hanno veramente trascinato letteralmente la juventus e per ora fagioli lo mettono nei promossi ma è stato sicuramente una una lieta sorpresa è stato uno dei giocatori più positivi e propositivi inseriti all'interno della della juventus milic promosso anche milic assolutamente sì milic è stato uno di quelli promossi è stata una grande bella sorpresa per quanto mi riguarda ricorderete non ero così entusiasta dell'arrivo di milic invece è ragazzi quando c'è da dire ho sbagliato nessun problema sono qui a dirlo e quindi milic assolutamente un giocatore che che sta dando il suo sta contribuendo alla causa per quanto riguarda pogba invece ancora una volta senza voto diciamo prima non ha mai giocato non è mai stato presente quindi è abbastanza impossibile dargli una valutazione e per quanto riguarda danilo io ragazzi danilo lo metto nei top metto nei top tranquillamente perché danilo ragazzi mi sembra uno di quei giocatori in questo momento imprescindibili per questa juventus quindi io il primo top lo voglio dare a lui che in questo momento è il nostro capitano effettivo passatemi questo termine è vero che è bonucci però dato che bonucci probabilmente ha perso i gradi da titolare danilo scavalcato anche quadrado e alexandro nelle gerarchie per la fascia e danilo mi sembra il primo top dato che comunque è anche il giocatore con più minuti in assoluto all'interno della rosa l'abbiamo visto pochi istanti fa voglio voglio assolutamente premiarlo per quanto riguarda moise ken allora ken sono indici tra promosso e me perché ultimamente nel finale di questa prima parte di campionato andrebbe addirittura forse nei top nella prima parte non è stato chissà che cosa ci sono state diverse partite dove ken comunque non stava dando il suo però anche vero che nelle quattro titolari che ha fatto ha fatto quattro gol forse me è un po pochino e quindi lo metto nei promossi lo metto nei promossi me è un po pochino probabilmente lo metto nei promossi vabbè a che non ha giocato nei me invece metto me kenny metto me kenny perché credo che sia in ritardo di condizioni in maniera allucinante infatti poi ora andrà al mondiale anche da infortunato comunque un paio di gol li ha fatti capocannoniere dell'eventus in champions league però non non credo che che sia uno dei giocatori in questo momento che ci sta dando chissà che cosa e quindi credo proprio che vada inserito nei me inserito nei me così come nei me ci metto quadrado probabilmente probabilmente ci metto quadrado perché non mi sta convincendo ed è un giocatore che in questo momento sta sta facendo fatica sta facendo molta fatica anche perché comunque è costretto a giocarsi un po tutte le partite in assoluto perché non c'è un vero e proprio ricambio e quindi insomma siamo in quella in quella valle lì un po messi messi così ed è sciglio ed è sciglio comunque i suoi minuti li ha giocati prima dell'infortunio no andiamo a vedere un attimino come siamo messi con de sciglio ma se direi che de sciglio ha giocato quasi come ken de sciglio a me non ha convinto fino adesso quindi forse è il primo da metterne nei bocciati probabilmente de sciglio il primo che che va nei bocciati direi di sì perché comunque finché è stato a disposizione le sue partite le ha giocate tutte praticamente la titolare se non da subentrante ma comunque con delle delle ottime degli ottimi minutaggi poi questo infortunio che che l'ha allontanato dal campo chissà che cosa ha avuto non ho idea però mi sento di non metterlo tra nemmeno tra i me perché credo proprio che sia un giocatore che vada inserito lì paredes paredes sono deciso tra i me e tra i bocciati forse nei bocciati è un po troppo severo non lo so forse sì in realtà perché giocatore paredes ricorderete non ero entusiasta del suo arrivo non mi faceva impazzire di avere paredes soprattutto perché avevamo rovella comunque avrei tenuto rovella però comunque paredes ha lo status di giocatore importante fino adesso come paredes ha dimostrato veramente poco e quindi credo che sia giusto inserirlo nei bocciati nemmeno nei me nei bocciati me che anni quadrado forse qualcosina in più l'hanno dimostrato rispetto a risciglio e paredes e nei bocciati bonucci probabilmente no probabilmente bonucci va nei me bocciati mi sembra un po eccessivo in realtà andrebbe nei bocciati probabilmente per un discorso di gerarchie nel senso che in questo momento ha perso il grado da titolare quindi tra virgolette è stato bocciato da allegri ma è stato bocciato perché c'è bremer che che sta facendo abbastanza bene quindi non lo so vedete quante sottile poi la differenza quando uno è indecito tra due categorie me è quella roba che ti deve lasciare abbastanza indifferente e quindi ma sì dai lasciamolo in me voglio cercare di non essere così severo con bonucci e invece il metto nei me anche locatelli anche se un po più vicino a all'idea di ken nel senso che è l'unico tra promosso e me mi dispiace metterò nei me ma ha fatto una prima parte di stagione abbastanza deludente secondo me locatelli e adesso invece ha iniziato a carburare con fagioli e rabiot al suo fianco mi piacerebbe metterlo nei promossi forse sono decisamente più verso i promossi rispetto verso i bocciati però me facciamo così me è il 6 meno facciamo così ribattezziamolo 6 meno me così abbiamo un attimo tutti l'idea quindi non proprio sufficiente quel 6 meno nel limbo del dell'indecisione invece bremer credo che vada assolutamente nei top perché ha fatto una prima parte di stagione molto molto importante secondo me il passaggio alla difesa 3 è stato decisivo per mostrare un po a tutti la la qualità la forza di bremer invece voglio essere cattivo con di maria lo metto nei bocciati secco lo metto nei bocciati perché da di maria invece mi aspettavo tanto a differenza di parede se quel tanto non c'è stato mi sta deludendo anche a livello fisico che ovviamente non è colpa sua però tanti infortuni mi sta deludendo anche a livello comportamentale quel rosso col monza giocatore che doveva in realtà trascinarla juventus la grande partita l'ha fatta col maccabi in casa ma io di maria mi aspetto che faccia qualcosa di più quindi di maria lo metto assolutamente nei bocciati caio ovviamente senza voto così come pinsoglio e alexandro lo metto nei 6 meno non nei bocciati lo metto nei 6 meno alexandro perché da terzo della difesa a 3 da sinistro da mezzo sinistro a braccetto sinistro sta ritrovando secondo me un po di di verve e quindi lo voglio mettere lì in generale credo che non sia assolutamente promosso ma bocciato sarebbe decisamente troppo forse più quadrado nei bocciati rispetto ad alexandro cioè se dovessi fare un ragionamento alexandro meglio di quadrado probabilmente in questa prima parte di stagione poi ovviamente ragazzi è l'importante quello che vi sto dicendo sui calciatori graficamente è un conto vedete poi come graficamente però l'importante è capire che cosa ci stiamo dicendo ecco blaovic non lo metto tra i top ma lo metto nei promossi perché un altro dal quale probabilmente mi aspettavo un po di più giunto a questo punto è vero che comunque nella prima parte di stagione dove la juve faceva fatica era lui a trascinare la juve e per questo non va nei bocciati è vero però anche che nell'ultimo periodo che è rimasto abbastanza fuori lì serviva forse dujan blaovic per cercare anche di averlo un po più a disposizione nella seconda parte di stagione mi aspetterò tanto di più da blaovic perché avrà già un anno di juve sulle spalle avrà un mondiale disputato quindi bisognerà veramente far venire fuori un po un po di qualità sicuramente non è non è bocciato ma non è nemmeno top per in invece lo metto nei top per in lo metto nei top perché quando ha giocato ha veramente fatto vedere il suo veramente dimostrato di che pasta è fatto e miglior secondo portiere in italia forse sì non lo so come diceva romeo agresti è poco meno di un primo ma tanto più di un secondo per in va nei top gatti lo metto nei sei meno perché non mi ha ancora convinto totalmente devo dire la verità però quando è stato chiamato in causa mi è mi è piaciuto tranne col monza per dire o col benfica dove ha fatto delle partite in cui insomma ha faticato tanto ed è per questo che non metto nei promossi però come gatti sul lungo può venire fuori c'è molto più vicino al promosso che al bocciato per intenderci è una scommessa che voglio fare io federico gatti perché mi sta mi sta piacendo e nei top invece metto rabbio se mi avessero detto che arrivate la pausa mondiale avrei messo rabbio nei giocatori migliori da juve non ci avrei creduto non ci avrei creduto devo dire la verità e quindi lo metto lì perché è veramente trascinatore della juventus tra gole assist rendimento presenza è praticamente il 1 2 3 4 il quinto giocatore più utilizzato da legri quindi uno dei giocatori sui quali si sta facendo anche molto affidamento e ragazzi che vi devo dire fatto cinque gol questo cinque gol in stagione per rabbio ma chi mai poteva pronosticarli quindi va assolutamente nei top permettetemi permettetemi di essere un po cattivo con miretti lo metto nei 6 meno metto nei 6 meno perché per un motivo io da miretti mi aspetto tanto di più mi aspetto tanto perché siccome le capacità ce le ha per arrivare nei promossi al pari di fagioli e in questo momento ha fatto un po fatica apro e chiudo una piccola parentesi non ha fatto la preparazione perché questo ha fatto l'europea under 23 e poi è arrivato direttamente con la juve quindi questo sicuramente influisce anche dal punto di vista fisico è un classe 2003 a 19 anni ragazzi di cosa stiamo parlando non è una bocciatura è decisamente molto più vicino ai promossi che ai 6 meno è scomparso dai radar e quando è ritornato dentro l'juventus per necessità perché c'era poca gente quindi serviva lui non ha dato quel giro di chiave che invece ha dato fagioli che si è meritato di rimanere tra i titolari e che se in questo momento sta dimostrando di essere da juve da miretti mi aspetto qualcosa di più è vero che ha due anni in meno ha esperienze in meno non si è fatto la serie b come si è fatta fagioli quindi sicuramente ribadisco perché non voglio che passi non è una bocciatura però miretti da miretti proprio perché so che può farlo mi aspetto qualcosa in più scesni scesni non so se metterlo tra i top o tra i promossi perché ora facciamo così lo metto nei promossi e non nei top solo per un motivo e cioè che per in si merita il top perché ha giocato decisamente meno e quelle volte che che ha giocato è praticamente sempre stato decisivo invece scesni è stato assorbito passatemi il termine anche da dalla champions della juve giocata dalla juve perché se dovessi ragionare solo sulla serie a per in e scesni vanno nei top tutti e due perché abbiamo sempre lo set gol in 15 partite considerando anche la champions scesni va per forza di cose un gradino sotto perché comunque ai ventus dei gol ne ha presi non sempre per colpa di scesni però è ovvio che la fase difensiva della juve considerando sia la champions che il campionato è un po così è un po così però ribadisco non è colpa di scesi fosse soltanto per la serie a probabilmente lo mettere nei top se devo ragionare nel globale ci sta che vada promosso e non top per quanto riguarda su lei invece senza voto perché ha giocato troppo poco così come chiesa questa un po secondo me la tier list giusta poi se dobbiamo ragionare sui giocatori togliendo il 6 meno ok intendiamoci se dovessi scegliere tra promosso bocciato a seconda di dove ficcare i giocatori allora mckenny va nei bocciati se dobbiamo togliere il 6 meno quadrado va nei bocciati bonucci va nei bocciati locatelli va nei promossi gatti va nei promossi miretti va nei promossi e alexandro alexandro è una bella lotta alexandro è una bella lotta perché ci sono state delle partite in cui ho detto però sia alexandro le partite che ho detto però ecco alexandro secondo me è la perfezione se dobbiamo parlare della categoria 6 meno cioè proprio l'ago della bilancia per intenderci se dobbiamo mettere nei promossi nei bocciati è proprio il punto di riferimento è stato più o meno di alexandro questo potrebbe essere quindi lo lascio lì questa è la categoria as 12 as 12 perfetto abbiamo una nuova categoria che che prende alexandro e lo mette proprio come cartina tornasole di tutto e quindi ragazzi io sono anche curioso no di sapere un po le vostre considerazioni la vostra opinione fatemi sapere se siete d'accordo con la tier list che avete appena visto o se secondo voi sono stato troppo severo troppo largo con alcuni calciatori ribadisco la tier list di live bianconera ringrazio per avermi sfidato tra virgolette a questa cosa vi lascio qui sotto in descrizione il link appunto per andarvi a fare la tier list taggatemi nella storia instagram perché sono veramente curioso perché sembrano facili queste cose qui ma non sono così facili grazie a tutti